Durante gli Open Day dei veci di dicembre e gennaio presenteremo la nostra offerta formativa nei tre percorsi del tecnico-economico, tecnico-tecnologico e professionale. Gli indirizzi del percorso tecnico-economico sono tre e sono quelli di amministrazione, finanza e marketing, il nuovo percorso di turismo quadriennale, una sperimentazione che permette di conseguire il diploma in quattro anni e il percorso di management sportivo. I percorsi dell'indirizzo professionale sono invece cinque e sono manutenzione elettrica ed elettronica, un percorso di professionale meccanica made in Italy e poi i corsi dedicati al benessere e alla moda, quindi il percorso professionale moda, acconciatori ed estetisti. Nove sono invece gli indirizzi del percorso tecnico-tecnologico, ovvero quello di elettrotecnica e robotica, elettronica e produzione multimediale, chimica e materiali e biotecnologie sanitarie, percorso di meccanica e meccatronica ed energia, ambiente e sostenibilità, percorso di informatica e il tecnico-moda e il nuovo percorso di grafica e comunicazione. All'interno di tutti questi indirizzi, gli studenti e le studentesse potranno conseguire certificazioni informatiche ICDL e Cisco, perché nella nostra scuola abbiamo docenti e esperti formatori e possiamo anche ospitare gli esami. In più, il nostro istituto è sede registrata a Trinity College London per il conseguimento delle certificazioni di inglese. Oltre ai progetti già descritti, segnaliamo anche quello di Rondine, realizzato in collaborazione con Rondine Cittadella della Pace, che interessa le studentesse e gli studenti del percorso amministrazione, finanza e marketing. Grazie.